E sa, i bambini. Ma non si preoccupi, ce li facciamo noi. Grazie. Ma questo è il videotelefono. Certo, signora. Mi vede? Bell'idea, lo regalo a mia madre. Scusi, sono arrivati i nuovi facci. Eccone uno, gli altri li trova là in fondo. Buonasera, mio marito voleva un telefono senza figli. Sa, per parlare anche dal giardino. Ma guardi pure, ne abbiamo per parlare dal giardino, dal terrazzo, dal balcone. Certo che lei avrebbe proprio bisogno di un aiuto. E un aiuto ce l'avrei, ma ogni volta è come se venisse da un altro pianeta. La sua segreteria. Negozi in SIP. Il telefono ha trovato casa. E ti, e ti, qui fa tutto e ti.